buonasera amici ben ritrovati sul mio canale youtube alla grande si gira si va attenzione adesso vi farò vedere una cosa che quando voi andate in bagno vi sentirete ricchi ma ricchi davvero è veramente ricchi non vi preoccupate eccola qua è questa ve la propongo e vi sentirete veramente milionari ma veramente ricchi ricchissimi ed è questa eccola qui eccola qui eccola qui con questa vi sentirete veramente ricchi quando andate in bagno mi raccomando da utilizzarla alla grande si gira si va io adesso vi saluto vado ciao ragazzi ragazzi tutti quanti alla grande vi saluto e ci vediamo nei prossimi video youtube mi raccomando ciao a tutti e vi sentirete ricchi ricchissimi ciao